Anche Citroen si inserisce nel segmento dei SUV compatti con il nuovo C3 Aircross, lo vedete alle nostre spalle, eccolo qui inquadrato, un SUV compatto che Citroen ha progettato per soddisfare le più diverse esigenze della vita quotidiana. Il SUV più abitabile e modulabile del segmento, ricco di tanta tecnologia utile, moderno, attraente, versatile, personalizzabile, si adatta a tutti gli stili di vita. Per i suoi eccellenti livelli di sicurezza, pensate, Citroen C3 Aircross ha conquistato le 5 stelle nel rigoroso protocollo Euron Cup 2017. Inoltre è entrata a far parte della shortlist delle 7 finaliste che si contenderanno il premio Car of the Year 2018. Citroen C3 Aircross si fa notare per la personalità forte, fresca e originale. Propone uno stile unico che identifica i nuovi modelli Citroen e ha tutte le qualità di un SUV robusto e protettivo. Altezza dal suolo rialzata, posizione di guida alta, protezioni anteriori e posteriori effetto alluminio, ruote di grande dimensioni e passaruota con profili in evidenza. Davvero un modello unico per chi ama viaggiare in città ma anche fuoristrada, un SUV compatto di nuova generazione.